Cari amici, illustro il programma di questa Assemblea Costituente, che sarà aperta con i saluti degli onorevoli Valditara, Muscardini e Moroni. Seguiranno le relazioni degli onorevoli Urso, Bocchino e Viespoli. Subito dopo sarà data la parola ai presidenti delle commissioni in cui è articolato questo congresso. Onorevole Angela Napoli per la commissione Legalità, professore Umberto Croppi per la commissione Cultura, il senatore Mario Baldassarri per la commissione Sviluppo, l'onorevole Benedetto Della Vedova per la commissione su Welfare, l'onorevole Enzo Raisi per la commissione sull'innovazione, sulla commissione Ambiente, l'onorevole Roberto Menia. Le commissioni si inseriscono in quest'ordine e sono aperte a tutti coloro che vogliono partecipare. Alle ore 10 si inseria la commissione Legalità, alle ore 12 la commissione Cultura, alle ore 14 la commissione Sviluppo, alle ore 16 la commissione Welfare, alle ore 18 la commissione Innovazione e alle ore 20 la commissione Ambiente. La sala per le commissioni è in fondo alla sala congressuale, al primo piano. Gli amministratori si riuniranno con l'onorevole Luca Bellotti, domenica mattina, alle ore 9, nella stessa sala delle commissioni. La seduta domani sarà dalle ore 10 alle ore 20, senza interruzioni. Buon lavoro a tutti, la parola all'onorevole Valditara.